Ciao fan di Endless Love! Oggi vi portiamo le anticipazioni delle puntate in cui Kemal e Nihan saranno davvero ad un passo dalla verità. Infatti, l'ingegnere riuscirà a liberare Karen, ma la farà anche parlare? Mentre Kemal è distratto con Karen e suo marito Tanner, lei la perderà la casa all'asta. Cosa succederà ora? Se volete scoprire come si svilupperanno queste vicende appassionanti, iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento e lasciate un like se amate anche voi questa bellissima serie televisiva turca. Ora cominciamo! Kemal, ancora a casa Sezin, entra nella stanza di Ozan per parlargli privatamente. Dopo aver salutato, chiede a sua sorella Zeynep di uscire, affinché possano avere un momento da soli. Zeynep, pur uscendo, rimane dietro la porta ad ascoltare la conversazione. Kemal, diretto e serio, inizia spiegando a Ozan che non vuole intromettersi nel suo matrimonio, ma ha una proposta importante da fargli. Suggerisce che Ozan e Zeynep dovrebbero iniziare a vivere da soli, lontani dalle influenze della sua famiglia. Esplicitamente esprime la sua preoccupazione per la convivenza sotto lo stesso tetto con Emir, descrivendolo come un nemico che potrebbe nuocere a Zeynep solo per colpire lui indirettamente. Kemal si offre di occuparsi di tutto, dalla casa, al loro sostentamento, promettendo così di garantire il benessere della coppia. Ozan ascolta attentamente e sembra incline ad accettare la proposta, ma esprime il desiderio di discuterne prima con Zeynep, volendo prendere una decisione congiunta con sua moglie. Nel frattempo, mentre Zeynep origlia la conversazione, Nihann la sorprende e lei inventa una scusa per nulla convincente. Nihann lascia correre e le dà dei vestiti che ha acquistato per lei, sapendo che Zeynep non era riuscita a portare i suoi da casa. Dopo la conversazione con Ozan, Kemal si sente fiducioso riguardo a una decisione positiva che coinvolga Ozan e Zeynep. Si avvicina a sua sorella, chiedendole se necessita di qualcosa, e la rassicura, ricordandole che è sua sorella e che lui la proteggerà sempre. Poco dopo, Nihann attira Kemal in disparte per avvertirlo che devono essere cauti, poiché in quella casa tutti spiano tutti, poi gli dice di avere ulteriori informazioni importanti da dargli. Contemporaneamente, Tariq, dopo aver salutato Banu, chiama Tufan. Esprime il desiderio di imparare a usare la pistola, e Tufan accetta di addestrarlo, promettendo che lo faranno presto. Nel frattempo, nella camera di Nihann, lei chiude la porta a chiave per parlare in privato con Kemal. Rivela di aver appreso da Emir che il corpo di Linda è stato trasferito in un cimitero. Questa rivelazione porta Nihann a considerare la possibilità che loro due possano aver frainteso alcune situazioni. Tuttavia, Kemal non è convinto, e sospetta che Emir la stia manipolando per depistarli. Kemal, sempre più preoccupato, esprime la certezza che Emir stia osservando ogni loro mossa. Per questo motivo, suggerisce che d'ora in poi agiranno separatamente per evitare eventuali trappole di suo marito. Con determinazione, afferma che farà di tutto per salvare Karen, rivelando che ha incaricato Zeyhir di pedinare Emir. Ozan è visibilmente entusiasta della proposta di Kemal di trasferirsi in una casa propria con Zeynep e decide di condividerla con lei. Tuttavia, Zeynep appare meno entusiasta dell'idea, cercando di trovare scuse per non accettare. Nonostante ciò, di fronte all'insistenza di Ozan, si vede costretta a cedere, pur continuando a cercare modi per convincerlo a cambiare idea. Più tardi, Emir raggiunge il luogo dove tiene sequestrata Karen. Nel frattempo, Zeyr avverte Kemal, che, uscendo dalla casa di Nihan, gli comunica di essere in cammino verso di loro. Emir, in un gesto di astuzia, ha separato Karen dal marito e le assicura che nessuno verrà ucciso a condizione che lei rispetti il loro accordo. Durante questo incontro, Tufan chiama Emir, esprimendo preoccupazione per essere stato escluso dall'incarico riguardante Karen e Tanner. Emir lo informa che per il momento dovrà dimenticarsi del caso, perché deve valutare se lui è ancora un alleato fidato o un traditore. Nel contempo, Leila è pronta per uscire e partecipare all'asta della casa. Nihan la sorprende presentandosi alla sua porta e insistendo per accompagnare l'amica all'evento. Proprio in quel momento, Kemal chiama Leila per avvisarla di un imprevisto che gli impedisce di essere presente. Leila rassicura Kemal che non c'è problema e Nihan prende il telefono per chiedere spiegazioni. Nel contempo, Leila è pronta per uscire e partecipare all'asta della casa. Nihan la sorprende presentandosi alla sua porta e insistendo per accompagnare l'amica all'evento. Proprio in quel momento, Kemal chiama Leila per avvisarla di un imprevisto che gli impedisce di essere presente. Leila rassicura Kemal che non c'è problema e Nihan prende il telefono per chiedere spiegazioni. Contemporaneamente, Galip riceve informazioni da un uomo che tiene d'occhio la sorella di Vildan. Quest'ultimo riferisce che Leila è uscita di casa e non è sola, ma in compagnia della nipote. Galip, confermando che il piano deve procedere come previsto, avverte che nessuna delle due deve farsi male. Mentre Vildan sta uscendo di casa per recarsi alla gara d'asta, Zeynep la ferma con la scusa di voler discutere della malattia di Ozan, visto che andranno a vivere da soli, precisando che sarà Kemal a sostenere tutte le spese. Vildan, visibilmente ostile, afferra Zeynep per un braccio, dicendole che lei può andare dove vuole, ma Ozan non si muoverà da casa e che, finché saranno sposati, tollererà appena la sua presenza. Zeynep replica che Ozan non prenderà bene la notizia, ma che cercherà di convincerlo a seguire il volere di sua madre. Contemporaneamente, Kemal è con Zeyir nel nascondiglio dove si trova Karen. Mentre Zeyir si occupa di bucare le gomme dell'auto degli uomini di Emir, Kemal utilizza un piede di porco per entrare nell'edificio. Dentro, nota due uomini distratti dalla televisione. Salendo le scale, raggiunge la stanza dove trova Karen legata e imbavagliata. Dopo averla rassicurata del suo intento di aiutarla, un uomo irrompe nella stanza puntandogli una pistola alla nuca. Con un movimento rapido, Kemal disarma l'uomo e lo colpisce. Poco dopo, un altro uomo sta per entrare nella stanza, ma viene sorpreso da Kemal dietro la porta, che lo disarma e poi fugge con Karen. Lei, preoccupata per il marito, chiede di lui, ma Kemal le dice che non sa dove si trovi e che è probabile che sia stato trasferito altrove. Durante la fuga, Kemal chiede a Karen di raccontare tutto quello che sa senza mentire e lei promette di farlo, a condizione che suo marito venga salvato. Nel frattempo, Tarik è al poligono con Emir, che lo elogia per la sua rapidità nell'apprendere a sparare e lo lusinga dicendo che lo sorprende sempre di più. Emir gli rivela di avere un lavoro pericoloso da affidargli, nel quale potrebbe essere necessario usare la pistola. Aggiunge che Tarik è sulla buona strada per sostituire Tufan, di cui non si fida più. Pur mostrando qualche esitazione, Tarik accetta, chiedendo dettagli sul lavoro che ha da proporre. Zeynep è sommersa dalla tristezza pensando ai suoi genitori. Decide di chiamare il negozio solo per sentire la voce di suo padre. Quando lui risponde, riconosce subito che è sua figlia dall'altra parte della linea e, sopraffatto dall'emozione, piange, ma poi riattacca il telefono. Poco dopo, chiama sua moglie Feimè, che in quel momento è con Asu e le chiede se qualcuno ha chiamato e poi riattaccato. Feimè risponde di no e, avvicinandosi ad Asu, riceve conforto da quest'ultima che la rassicura dicendo che presto Hussein perdonerà Zeynep e tutto si risolverà. Feimè, ancora scettica e emotivamente fragile, scoppia a piangere, prendendo le mani di Asu e ringraziandola, affermando che se una figlia se n'è andata, un'altra è appena arrivata. Nel frattempo, Leila e Nihan si trovano in una strada trafficata quando vengono improvvisamente tamponate da un'auto. L'impatto causa una reazione a catena che coinvolge anche la macchina davanti a loro, creando una situazione caotica che richiede l'intervento della polizia stradale. Leila e Nihan, avendo fretta di raggiungere l'asta, chiedono di risolvere il problema più tardi, ma gli altri automobilisti insistono per chiamare subito la polizia. Uno degli uomini coinvolti nel tamponamento chiama Galip per informarlo che la situazione è sotto controllo e che le terranno bloccate come da istruzioni. Zeynep entra di nascosto nella stanza di Nihan, prova i suoi trucchi e osserva i suoi vestiti, dichiarando con decisione che nessuno la costringerà a lasciare quella casa. Successivamente, parla con suo marito Ozan e gli dice che Vildan non vuole che se ne vadano. propone di trasferirsi in una stanza più grande, ma Ozan, sorpreso, ribadisce il loro piano di andare a vivere da soli. Zeynep però lo convince a rimanere, spiegandogli che non vuole che lui soffra come sta soffrendo lei con i suoi genitori. Ozan, commosso dall'amore di Zeynep, accetta di restare. Mentre aspetta l'arrivo di Leila, Vildan viene tranquillizzata da Galip che tutto è sotto controllo e che avrà la casa. Tuttavia, Leila e Nihan, non potendo aspettare la polizia, decidono di fuggire in taxi, anche per via della chiamata dall'avvocato di Leila che la rimprovera per essere in ritardo e non c'è più tempo. Uno degli uomini avverte Galip che, a sua volta, informa Vildan tramite messaggio che Leila è in arrivo, ma non farà in tempo a rilanciare e la casa sarà sua. All'asta, Vildan fa l'offerta concordata con Galip che si rivela essere già molto superiore al valore della casa e senza problemi se la giudica. Nel frattempo, Kemal è con Karen e Zeir. Prende quest'ultimo in disparte e gli domanda se si stia chiedendo chi sia tutta quella gente perché ci sono persone sequestrate e tutto quello che stanno passando insieme. Zeir però gli dice se vorrà glielo dirà ma lui non gli farà domande. Kemal poi tranquillizza Karen. Lui vuole aiutarla e le spiega che entrambi sono utili l'uno all'altro ma deve fidarsi di lui. Emir riceve la notizia che Karen è stata liberata e portata via. Ordina immediatamente di rintracciarla e informa Tufan che dovrà tenere d'occhio Tarik a cui ha affidato un compito specifico. Emir aggiunge che in caso di fallimento saprà che c'è lui dietro. Nel frattempo, Kemal chiede a Karen se ha qualche indizio su dove possa essere suo marito. Karen risponde di non aver visto nulla ma ricorda di aver sentito parlare di un luogo a cinque minuti di distanza. Kemal allora incarica Zehir di controllare se ci sono altri edifici nelle vicinanze mentre lui decide di rimanere lì con Karen. Guardandola negli occhi, Kemal le chiede conferma sulla morte di Linda. Karen, visibilmente spaventata, ammette di avere paura di non rivedere più suo marito se parla ma promette che appena si ricongiungerà con lui racconterà tutto onestamente. All'asta Nian e Leila arrivano in ritardo e trovano Vildan che riceve le congratulazioni dagli altri investitori. Quando Vildan vede sua figlia il suo volto cambia espressione. Leila capisce immediatamente di aver perso la casa in favore di sua sorella. Con gli occhi pieni di lacrime dice a sua sorella che non conosce il vero valore di quella casa. Vildan infastidita dalla presenza di sua figlia con Leila le dà una settimana di tempo per liberare la casa affermando che ora le appartiene. Per ferirla ulteriormente le dice con sarcasmo che può passare nella sua nuova casa a prendere un caffè quando vuole. Nian profondamente commossa abbraccia Leila mentre piange per la perdita. Nian chiama Kemal per informarlo che sua madre si è aggiudicata l'asta e Leila ha perso la casa. Spiega che il loro ritardo è stato causato da uno strano contrattempo. Chiede poi notizie su Karen e Kemal conferma di averla trovata. Rivela inoltre che stanno cercando il marito di Karen e che una volta trovato lei rivelerà tutto ciò che sa. Intanto nei pressi del nascondiglio di Karen c'è solo una casa isolata in mezzo ai campi. Zeir organizza l'arrivo di alcuni complici che hanno il compito di distrarre gli occupanti della casa. Gli uomini fingendosi ubriachi si avvicinano con l'auto suonando musica ad alto volume e inscenano una rissa. Mentre i due uomini di guardia escono per intervenire e allontanarli Kemal e Zeir approfittano del caos per entrare nella casa e trovare Tanner anche egli legato e imbavagliato. Kemal sollevato di trovarlo vivo lo libera e insieme escono rapidamente. A casa Leila è devastata. Nian cerca di consolarla e le promette che troveranno un modo per riprendersi la casa. Subito dopo Kemal chiama e informa Nian che hanno trovato Tanner e che si stanno dirigendo da Karen ma passa prima a prenderla così che possano essere presenti insieme quando Karen farà la sua confessione. Durante il viaggio verso la casa dove si trova Karen Nian e Kemal sono ansiosi di scoprire la verità. Tuttavia Kemal rimane cauto conscio che fino a quando non saranno effettivamente con Karen la situazione rimane incerta. Al loro arrivo fanno una scoperta sconvolgente. Karen è morta distesa a terra in una pozza di sangue con una pistola in pugno. Nello stesso istante Tufan e Tariq sono in auto. Il fratello di Kemal è molto agitato e in lacrime si autoaccusa di aver ucciso una donna. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie scrivete Voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.